Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati sul canale, un saluto da IndyLulux siamo arrivati al quarto episodio del nostro World True di Little Nightmares ed eravamo appena sfuggiti dalle Grinfed a quella merdaccia con le gambe corte e braccia lunghe allora eravamo arrivati proprio qui, eravamo sfuggiti per un pelo a quel morboso feticista delle bambole e adesso vediamo il da fa... porca evo, ho fatto un casino a madonna, ora arriva ora arriva, ora arriva, lo sapevo che arrivava merda, devo prendere una scarpa lancia, lancia, lancia bene, corri uh, gli orologi fan casino, noi ne approfittiamo per scappare dove dobbiamo andare, dove dobbiamo andare, scappa, scappa, scappa madonna, quanti orologi c'ha in casa questo? apri la porta, muoviti oh, apri la porta ok, dove siamo arrivati? un'enorme libreria ok ci dovremo arrampicare sui libri, credo andiamo su, andiamo su ah, c'è un pianoforte sospeso per aria vorrei sapere chi ha quel genio che ha deciso di posizionarlo in quel posto lì ho capito che magari lo spazio non è tanto, anche se mi sembra che gli spazi sono abbastanza ampi, però uh, ok ora dovremo aggrapparci al volo no, ho sbagliato, uh, ho sbagliato tasto vai, aggrappati grande madonna si cadono i libri madonna se si estende in verticale questo po' ma è ovunque ma è sempre lo stesso ce n'hai più di uno perché se è uno solo si teletrasporta quella merda lì era di sotto ora come fa a essere sopra? ok, qua sembrerebbe il posto dove infilare una manovella ora, dove la troviamo una manovella? bella domanda oh, cazzo merda arrampicati 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 ok allora, lì c'è una scimmietta quindi probabilmente dovremo distrarlo no, non far casino guarda, guarda con le manine da merda ok, l'abbiamo distratto l'abbiamo distratto l'abbiamo distratto stiamo facendo un casino boia ora, dove dobbiamo andare? lanciaglielo in là grande grande casino buttalo in là vai bordello eh, volevi no, arrampicati 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 dimmi che non mi vede di sopra oh, non mi ha visto non mi ha visto ah, ma qua c'è anche un buco sì, c'è anche un buco ottimo ok, abbiamo trovato la nostra manovella ora cosa facciamo con la manovella? la sedia non si sposta spostiamo questa non si sposta la manovella possiamo prendere dobbiamo portarla indietro allora che facciamo? che facciamo? la televisione televisione si può fare qualcosa? sì che cazzo oh, madonna che video disturbanti sembrano quei video del deep web non so se avete preso merda il casino l'ha tirato noi prendiamo la manovella e ce ne andiamo corri corri, 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 corri uh per un pelo per un pelo, per un pelo guarda che casino che abbiamo fatto corri tanto di tanto il framerate va a puttana ragazzi, non è colpa mia dai, 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 dai volevo aggrapparmi al volo non ce l'ho fatto ora dovrò rifare tutto quanto ok, ripartiamo da qua dove c'è il televisore vai, pensavo peggio onestamente allora, prendiamo la manovella maledizione e la mettiamo qua sulla porta ce l'abbiamo già pronta e ora attiviamo la televisione è abbastanza inquietante ragazzi non so se vedete c'è una donna che fa dei gesti strani via, piano, piano piano, piano lui rimane ipnotizzato dalla televisione e noi scappiamo bellamente via, 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 via dovremmo essercelo scrollato di dosso speriamo perché ok, ora possiamo utilizzare la nostra manovella perfetto che succede? ah, tiriamo su il pianoforte perfetto dovremmo essercelo levato di torno per un po' almeno ok dove siamo finiti? non sono dei binari? ah, qua c'è anche del gas che preferisco evitare sicuro e una porta con un occhio ovviamente a cui non arrivo se qua ci sono dei binari probabilmente ci sarà qualcosa ecco esatto una specie di carrello delle pulizie carrello della spazzatura dei panni sporchi non capisco che ci potrà essere particolarmente utile ora, io di qua crepo no quindi utilizziamolo così aspettiamo che la barca si inclini ok e teoricamente il carrello dovrebbe inclinandosi la barca è bello come è utilizzata la fisica in questo giorno afferralo come è utilizzata la fisica ragazzi perché come si inclina la barca il carrello si inclina a sua volta sfruttando appunto la fisica ok ora grazie a questo dovremmo riuscire ad arrivare alla maniglia vai perfetto merda ora se mi mollo uh cazzo questa visuale ampia è bella però madonna non ti dà tanto l'idea delle distanze cioè se lì mi mollavo al volo sarei finito assolutamente nel vuoto cioè proprio a maniera bella secca ok siamo di nuovo nei meandri della nave direi qua c'è un buco torca corri che merda oh ma quello è odioso ragazzi cioè ditemi che se non è una merda cioè c'è un buco tra proprio col braccio tra così e ti prende al volo merda ti possono anche dire merda umana perché non sei umano sei una schifezza ok ora io quello come lo schivo allora era qua esatto anche di dietro uh mi ha schivato a culo non so come non so come ok merda noi posso neanche fermare un secondo a sistemarmi l'auricolare che sto merda ti apre la porta e ti piglia al volo maledetto ora secco ci fa nascere lì ci fa rinascere lì e devo correre come un pazzo da subito da vedere guarda ste l'ho detto corri corri no 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 è più veloce di noi muoviti ok ok ora guarda quello ci arriva ecco le braccia no 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 quello ci arriva è rimasto incastrato con la testa nella porta praticamente solo che non so se la porta si rompe e muore o se dobbiamo dargli un aiutino a noi qua non dovrebbe arrivarci a prendere vediamo se no merdaccia di sicuro la porta non si rompe dobbiamo aiutarla noi a rompersi probabilmente rompendo quell'intelaiatura probabilmente proviamo perché vedete qua non si può andare da nessuna parte dai 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 esatto merda non è ancora morto dobbiamo rompere anche l'altro pezzo probabilmente guarda guarda come ci cerca guarda che cazzo di braccio è lungo proviamoci dai 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 muori no la mano ancora merdaccia aveva la mano che ancora si muoveva ma ha fatto caccare sotto ce lo siamo tolto dai piedi ce lo siamo tolto dai piedi raga che bella cosa una giornata sole questa era una cazzata però che bella cosa finito il livello vorremmo aver finito il livello ragazzi e finendo il livello finisce anche il video e sono veramente felice di essermi tolto quell'abominio schifoso sformato che continuava a darci la caccia ma penso che presto arriverà qualcun altro di altrettanto merdoso a darci appunto la caccia detto questo ragazzi grazie come al solito per la visione non perdete il prossimo appuntamento e buon incubo a tutti ciao ciao grazie a tutti Grazie a tutti.